buongiorno cari amici e care amiche bentornati o bentrovati bene oggi siete pronti faremo una cosa speciale avete letto dal titolo ricorderò la mia adolescenza e la mia gioventù attraverso tre profumi che mi hanno accompagnato in quel periodo è un video che voglio fare davvero da tantissimo tempo ma ho perso un profumo di questi tre e quindi poi ho perso sì sicuramente l'ho perso nei vari spostamenti di casa nei vari nelle varie sistemazioni la casa non ruba ma nasconde e prima o poi salterà fuori e oggi visto la giornata brutta uggiosa fredda non devo uscire tutto quello che dovevo fare fuori l'ho già fatto sono andata a farmi le mie manine con un bel colore primaverile che richiama primavera che richiama sole che richiama aria fresca anche se voi lo sapete io non vi nascondo io amo l'inverno amo la pioggia non mi rende triste diciamo che mi regala un momento di relax dove mi piace pensare insomma a me piace tantissimo quando piove quando nevica quando fa freddo quando posso rimanere a casa mia e oggi quindi faremo insieme un viaggio nel tempo un viaggio nel tempo con tre profumi che ho amato tantissimo ma soprattutto che porto nel cuore proprio perché mi hanno regalato dei ricordi bellissimi dei momenti bellissimi anche legati magari a dei momenti così adolescenziali e giovanili non dico dolorosi ma che mi hanno fatto patire per amore per le amicizie magari perse insomma comunque faremo insieme un viaggio nel tempo quindi preparatevi tisana un poltrona fate quello che volete se volete stare in mia compagnia e torniamo torniamo indietro nel tempo torniamo indietro nel tempo e vedrete che come vi ho sempre raccontato nei miei video sui profumi io sono un appassionata un amante dei profumi da molto tempo e cosa lo dimostra cosa lo dimostra cosa porto come prova le miniature originali del primo profumo queste sono miniature che risalgono all'età più o meno magari qualche anno un po più tardi dell'uscita del primo profumo gocce di napoleon che è il primo profumo che è entrato nella mia vita e soprattutto che io ricordo ricordo per dei momenti ben precisi allora in questi giorni in cui pensavo a come preparare il video a cosa raccontarvi mi sono provata ops scusate mi sono provata i profumi diciamo quelli non ancora riformulati che cosa prova che questo è un campioncino dell'epoca il fatto che non c'è il vaporizzatore perché adesso non se ne trovano quasi più allora mettendomelo sul sul braccio ho trovato delle leggerissime differenze tra quello che ho acquistato qualche tempo fa che è questo diciamo che la confezione non è cambiata qui tra l'altro il vaporizzatore è anche un po' difettoso sicuramente l'intensità non è più quella di prima ma devo dire che anche questo ha la sua buona intensità e di cosa stiamo parlando di che età stiamo parlando stiamo parlando della mia adolescenza 12 anni non ero ancora adolescente l'adolescenza adesso comincia verso i 15 verso i 16 una volta finita la terza media si era adolescenti si entrava nel gruppo degli adolescenti che era per noi ragazze dell'oratorio per noi bambine dell'oratorio il gruppo che guardavamo con desiderio no queste ragazze che ormai facevano parte di un gruppo distaccato da quello delle elementari delle medie che erano grandi in oratorio che organizzavano che facevano gli animatrici che provavano i canti con la chitarra a noi tutto questo era un po' non vietato non eravamo incluse dico incluse perché quando io frequentavo l'oratorio c'era l'oratorio femminile e l'oratorio maschile ed è andato avanti così forse fino a quando io ho compiuto 17 anni 18 anni adesso non ricordo bene perché veramente è passato un po' di tempo ma gocce di napoleon allora io vi racconterò i profumi sì vi dirò le note ma in questo video anche negli altri video vi racconto le mie emozioni però qui proprio questi profumi sono legati a dei ricordi a delle persone a dei momenti molto belli io sono stata fortunata ho avuto una un'infanzia felice un'adolescenza bellissima sempre circondata da amici forse proprio perché figlia unica andavo alla ricerca di compagnia di persone di amiche di amici con cui condividere quelle che erano le mie idee i miei pensieri la mia voglia la mia voglia di fare e quindi diciamo che ho avuto un'entrata nell'oratorio parrocchiale che ai tempi era la realtà più vicina a me e più frequentata dalla maggior parte delle persone dei ragazzi dei bambini che io conoscevo verso i 13 anni sono entrata verso i 13 anni perché c'era la mia nonna che era ammalata e quindi i miei genitori non potendo andare in vacanza quell'anno mi iscrissero al campeggio dell'oratorio dove io non conoscevo nessuno quindi partì quella mattina con la mia valigetta di finta pelle e mio papà mi accompagnò al pullman da lì partì e non tornai più non tornai più nel senso che quello è stato veramente il passaggio fondamentale per la mia educazione per la mia crescita per la mia crescita nella fede e questo profumo caratterizza un po' quegli anni ma è legato soprattutto a due mie cugine allora intanto vi dico che ho trovato le note e tutte le descrizioni su fragrantica gocce di napoleon di morris è una fragranza del gruppo ambrato floreale da donna è stato lanciato pensate sul mercato nel 1979 io sono del 70 quindi pochi anni dopo la mia nascita pochi anni dopo la sua uscita io iniziai a utilizzarlo e lo conobbi grazie a due mie cugine Lella e Anna che non so se sanno che io faccio dei video su youtube sono due mie cugine per quello che riguarda l'affetto l'amore nel mio cuore ma a livello di parentela sono le figlie di una cugina di mio papà mio papà era figlio unico o meglio ha perso un fratellino appena nato diciamo e quindi una volta le famiglie si riunivano stavano insieme divento grande passò la sua infanzia la sua giovinezza ma anche la sua vita adulta perché ci siamo sempre frequentati e ci frequentiamo ancora con questa sua cugina che io ho sempre chiamato zia la mia zia Emy e queste due mie cugine che sono le figlie della zia Emy quindi Lella e Anna ricordo benissimo che nella loro camera io mi piaceva tantissimo andare a casa degli altri perché a casa mia mi annoiavo ero da sola mia mamma è sempre stata molto disponibile verso le persone che avevano bisogno quindi andava ad aiutare magari i suoi fratelli andava ad aiutare le sue sorelle dove c'era il nonno che era ammalato e quindi io magari andavo tante volte con lei oppure tante volte rimanevo a casa però stare a casa da sola non mi piaceva e quindi andavo a trovare le mie cugine una volta non c'era la paura di lasciare andare i bambini per strada da soli abitavo a un quarto d'ora 20 minuti a piedi di distanza e quindi io a 9-10 anni nel pomeriggio quando avevo finito i miei compiti salivo e andavo dall'Anna e dalla Lella dall'Anna e dalla Lella c'era una bellissima camera loro avevano una camera tutta per sé io dormivo in salotto perché nella mia casa c'era soltanto la sala con il timano letto poi si trasformò quando io andai al liceo in una camera vera e propria e quindi lì cosa facevamo? ascoltavamo la musica ma che musica ascoltavamo? cioè ragazzine di 12-13 anni Guccini vecchioni vabbè Claudio Baglioni ok Claudio Baglioni che è forse il cantante penso per chi è della mia generazione che ha accompagnato tutta l'adolescenza e tutta la giovinezza ascoltavamo Bennato ascoltavamo anche dei cantanti Bruce Springsteen era uno dei nostri preferiti con il nostro registratore e con le cassette stavamo delle ore e delle ore in camera ad ascoltare Lella che è la mia cugina maggiore delle due sorelle cominciava magari già ad avere dei profumi e ricordo che sul suo cassettone in camera c'era goccia di Napoleon e io insomma andavo e me lo spruzzavo e quindi questo profumo che tra l'altro ha un diffusore difettoso qui perché ne perde una svalangata no adesso no se chiudo gli occhi io mi ritrovo in quella camera sdraiate per terra sul tappeto con il registratore che va a balla e queste musiche che mi riportano bambina perché a 12-13 anni si è ancora bambine ricordo anche che la pubblicità di questo profumo che fu lanciato sul mercato appunto in quegli anni era quello di una ragazza molto carina un po' francese nello stile con un ombrello che ballava sotto la pioggia e che poi baciava un gatto che era un cartone animato ebbene siccome a noi piaceva tantissimo questo profumo facciamo anche noi quella cosa quindi in un giorno di pioggia uscimmo per strada e iniziamo a ballare sotto la pioggia proprio perché eravamo così innamorate di questo profumo da questa pubblicità è un profumo molto giovanile un profumo molto fresco le sue note sono le note di testa sono salvia, sclarea limone di amalfi arancia, bergamotto, pesca e mandarino quindi un'apertura molto agrumata molto fresca molto fruttata poi abbiamo le note di cuore che sono basilico, ribesnero pepe, lavanda, rosa e gelsomino e qui comincia ad entrare qualche fiore che però non prevarica sull'apertura questo profumo per me rimane sempre molto agrumato molto fresco molto leggero molto frizzantino molto giovanile e poi abbiamo le note di base che sono muschio di quercia muschio, mirra, labdano francese incenso e paciuli ecco io dirvi che sento tutte queste note di fondo mentirei probabilmente sono legata più che alle note di questo profumo al ricordo di quello che io sentivo quando mi spruzzavo gocce di napoleon io sentivo l'odore della primavera l'odore degli agrumi l'odore del limone molto anche il basilico questo bouquet fiorito per me non è molto presente adesso sto ascoltando proviamo a metterci invece quello che probabilmente è l'originale ma non discosta tantissimo e forse nella durata ecco diciamo che forse la differenza a naso al momento che io sento è che questo è un pochino più aromatico c'è anche da dire che mettete che questi due campioncini siano anche soltanto intorno agli anni 80 85 facciamo anche 90 sono passati tanti tanti anni il profumo non si è deteriorato non è cambiato questo forse è il più vecchio ed è leggermente ossidato ma il profumo è rimasto tale quale io tengo tutti questi campioncini in una vetrinetta quasi al buio sull'anticamera del mio piano e è un profumo da ragazza è un profumo molto aromatico molto fresco unisex non ha nessuna definizione di genere meno male dove il bergamotto il limone hanno sì un mix molto fresco leggermente dolce aromatico ma rimane veramente questa briosità questa freschezza questa leggerezza che la paragono davvero a quell'età dell'adolescenza dove tutto è possibile dove da bambino stai diventando ragazzo ragazza dove inizi a capire quali sono le situazioni del mondo dove ti piacerebbe stare dove inizi a capire forse qual è l'idea del tuo futuro finisci le medie inizi a pensare a quello che sarà la tua scuola superiore a quello che vorrei fare nella vita almeno ai miei tempi già alle medie si riusciva a decidere soprattutto perché c'era l'opportunità di trovare presto lavoro una volta finite le scuole superiori adesso neanche dopo l'università si riesce a fare il lavoro per il quale si è studiato e niente questo è davvero un profumo meraviglioso che mi piace ancora portare non li uso tantissimo perché diciamo sono preziosi al mio cuore e li voglio utilizzare proprio in quei momenti in cui io voglio ritornare quella ragazzina lì quella ragazzina lì che aveva la vita davanti aveva tante scelte aveva le porte del mondo aperte e c'era la possibilità di fare tutto nella vita poi tutto nella vita non si può fare ma lo si scopre solo da adulti ed è questo il bello quando si è giovani si pensa di essere onnipotenti si pensa di essere così forti da poter andare contro il mondo e contro tutti ed è giusto che sia così è anche giusto che noi genitori ci ricordiamo che abbiamo passato questa fase e quindi quando magari ci viene da dire qualcosa ai nostri figli cerchiamo di fare un passo indietro ecco questo io cerco sempre di farlo perché io davvero sono stata da sempre una persona libera i miei genitori mi hanno insegnato ad essere libera e a fare delle scelte non è detto che le scelte che io ho fatto nella vita siano sempre state quelle giuste ma poi ne ho pagato le conseguenze i miei genitori mi sono sempre rimasti accanto non mi hanno mai detto arrangiati hai fatto questa stupidata no assolutamente magari mi hanno detto ecco se ci avessi pensato un pochino di più però ci sono sempre stati e penso che questa sia la scelta più bella che un genitore possa fare al proprio figlio renderlo autonomo fargli capire che ha la libertà di poter scegliere ma che ha anche la responsabilità delle azioni che fa vabbè qui sono andata da un'altra parte ma lo sapete che quando io comincio a raccontare queste cose e parlo di vita mi vengono fuori queste riflessioni niente ritorniamo a questo profumo che è un profumo meraviglioso è un profumo dell'età più bella che una persona possa vivere l'età dell'adolescenza ed è un profumo che mi ha accompagnato dai 12 ai 16 anni e questi sono i miei due tesoretti insieme alla boccetta che ho comprato forse due o tre anni fa non sapevo neanche più che esistessero questi profumi e li ho scoperti per caso o proprio guardando dei video su youtube secondo profumo e questo è il profumo del distacco e anche qua potete vedere che non dico delle bugie questo è un tesoro questo è un tesoro e questo invece è il profumo che mi sono ricomprata questo è uno dei profumi che io ho amato di più e che amo tuttora ma lo metto pochissimo perché è il profumo del distacco e adesso vi racconterò perché è il profumo del distacco bene passati i 16 anni c'è l'inizio delle mie uscite giornaliere in oratorio c'è la messa tre volte alla settimana perché avevo addocchiato quel ragazzo che sembrava quasi un prete ma non era un prete e mi piaceva così tanto quindi d'accordo con la mia amica Anna andavamo a messa tre volte alla settimana perché c'era Paolo che suonava l'organo e accompagnava le messe lui manco si accorgeva che io esistessi anzi proprio mi snobbava tranquillamente e niente iniziamo il mio percorso in oratorio iniziamo il mio percorso in oratorio a 16 anni finalmente dopo avergli fatto una corte spietata io finalmente lui si accorge di me finalmente lui si accorge di me il 31 di dicembre ci mettiamo insieme come si diceva una volta e niente comincia il nostro lungo lungo percorso che durerà 10 anni di fidanzamento chiamiamolo così all'inizio non era proprio un fidanzamento erano due ragazzini che si piacevano arriviamo all'età dei 18 19 anni Paolo finisce le scuole superiori inizia a così pensare un po' a quello che vorrà fare nella vita lui stava studiando al conservatorio pianoforte e poi c'era il servizio militare c'era il servizio militare quindi c'era la possibilità di fare il rinvio per chi per motivi di studio voleva rinviare il servizio militare quindi non partire subito dopo la maggiore età o l'anno dopo e quindi fece fece il rinvio ma finito il diploma di conservatorio dovete partire dovete partire guardate quanto sono belli ma sono veramente bellissimi bellissimi ebbene ed è qui che entra Chopard allora Kashmir scusate Kashmir di Chopard Kashmir di Chopard è una fragranza del gruppo Ambrato Vanigliato da Donna Kashmir è stato lanciato sul mercato nel 1992 Paolo fece il militare a 22 anni 21 anni 22 23 non mi ricordo più e e io portavo già portavo già questa fragranza era appena uscita ricordo che comprai questa miniatura dal signor Pino che era il mio edicolante che aveva una vetrina tutta piena di profumi era una tabaccheria edicola che cosa vendeva vendeva di tutto e vendeva anche le miniature quindi io comprai questa miniatura e infatti è stata usata non è evaporata comprai questa miniatura e poi mi comprai anche il profumo non questo la sua copia diciamo così le note di testa sono pesca cocco mango bergamotto e frutti le note di cuore sono geranio gelsomino note floreali e mughetto le note di base sono vaniglia ambra sandalo muschio paciuli e note boschive questo per me è un profumo arabeggiante ascoltato con il naso di adesso quando i profumi arabi non sapevo neanche cosa fossero è è una meraviglia questo è una meraviglia ma allora mamma mia è giovedì sera esco come al solito dopo aver lavato i piatti altrimenti mia mamma non mi faceva uscire esco avevo vent'anni ventuno dunque io lo comprai sì 22 92 70 avevo 22 anni già lavoravo quindi mi potevo permettere di acquistare un profumo con i miei soldini quei pochi che i miei genitori mi lasciavano perché come tutte le ragazze dell'epoca io il mio stipendio lo consegnavo totalmente al mio papà che poi mi dava un tot di soldi per arrivare alla fine del mese con le mie piccole stupidate che volevo comprare giornali libri profumi trucchi insomma queste cose per il resto mi mantenevano loro e quindi io non mi sono mai posta il problema di tenermi di tenermi lo stipendio ebbene Paolo parte per per il militare sapete che insomma non c'erano cellulari le telefonate erano una volta alla settimana poi doveva scegliere se telefonare a me o telefonare ai suoi genitori e quindi facevamo un po' il turno telefonava a me io poi telefonavo sui genitori telefonavo sui genitori sui genitori mi dicevano che andava tutto bene cose molto veloci poi andò anche a fare i Vespri siciliani in Sicilia e lì faceva fatica a telefonarmi perché era in un campo su una spiaggia e quindi diciamo che le nostre comunicazioni erano molto più diradate e allora io mi inventai il diario del soldato il diario del soldato perché cominciai a scrivere cominciai a scrivere ogni sera raccontavo scrivendo a Paolo le mie giornate e comunque i miei sentimenti che lui mi mancava quello che succedeva nel nostro gruppo di amici quello che mi succedeva al lavoro insomma tutte le cose e questo diario è stato scoperto da Lucia nei giorni scorsi e io mi sono vergognata terribilmente ho riletto alcune pagine e mi sono detta ma questa sono veramente io ma mi sono stupita rileggendo quelle parole e davvero mi sono anche emozionata perché perché davvero scrivere è mettere nero su bianco quello che si ha in testa e quello che si ha nel cuore e e quindi ho pregato Lucia di non leggere per favore il diario del soldato prima parte e seconda parte perché quelle erano emozioni e ricordi soltanto miei e soltanto di Paolo insomma vabbè ma torniamo al profumo che qua io sto divagando e quindi questo profumo mi ricorda quel periodo perché iniziai proprio a metterlo verso i 22 anni iniziai a metterlo in quel periodo e ricordo che quell'inverno lo indossai con una pelliccia sintetica fatta a Montgomery di colore bianco e ricordo in particolare che quella pelliccia quel giubbotto profumava tantissimo di cashmere e questo mi riporta a quei giorni a quando il giovedì sera c'era la messa dei giovani e ci si trovava un 20 minuti prima per provare le canzoni con la chitarra a me è sempre piaciuto cantare ho cantato da sempre nei cori parrocchiali anche adesso e quindi mi ricorda quel momento spensierato ma anche così un po' faticoso per la lontananza per la lontananza di Paolo e quindi questo profumo è per me il profumo della lontananza è il profumo del periodo in cui Paolo era a militare è un profumo dolce arabiggiante è un profumo che ti riporta a dei tramonti o a delle albe nel deserto c'è questa intensa fragranza che ti abbraccia quando tu lo spruzzi c'è il cocco c'è il mango mi pare che il mango ci sia sì esatto c'è la pesca quindi ci sono questi frutti così polposi zuccherini dolci a piena maturazione ed è quello che si sente al primo spruzzo poi questo è il profumo più duraturo dei tre profumi che oggi vi racconto poi si assesta sulla pelle e diciamo ne esce un po' il suo cuore speziato esce la vaniglia esce il sandalo il paciuli il geranio anche che regala un po' secondo me di cipriato a questa fragranza il geranio è una delle notte che mi piace tantissimo nei profumi è è un profumo intenso è un profumo da scia se lo volete mettere ancora oggi è un piccolo gioiello di profumo come la sua miniatura è attuale non scontato con una formulazione meravigliosa presumo che anche questo sia cambiato nel tempo come formulazione però ha ancora tanto da dire è davvero il profumo che mi rievoca le uscite con gli amici il cinema l'assenza di paolo la pelliccia ecologica l'inizio del lavoro la giovinezza che comincia a diventare età adulta e che ti fa comprendere quale sarà la scelta della tua vita che poi si realizzerà molto 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 più avanti un profumo che mi piace tantissimo e che voglio ricominciare ad indossare perché non ha nulla da invidiare agli arabi che ci sono in giro un profumo che rimane per tutta la giornata anche con pochi spruzzi e ve lo dice una che fa il bagno nel profumo un profumo però che rimane al suo posto che non ostenta che non vuole essere di più è un caldo abbraccio da pelliccia che mi riporta a quella meravigliosa età diciamo dei 20 25 anni stupendo stupendo profumo ma ora arriviamo all'amore della mia vita che purtroppo è cambiato ed è cambiato molto nel tempo allora vi dicevo il profumo è Anais Anais chi non ha amato Anais Anais penso la maggior parte delle ragazze degli anni 70 la versione che ho io è Anais Anais l'original che non è quella che avevo anni fa e che non è quella che avevo acquistato poi qualche anno fa e che non trovo più il primo profumo Anais Anais che è quello che io ho sempre portato nasce nel 1978 le note di testa sono giglio bianco giacinto caprifoglio galbano fiore d'arancia lavanda bergamotto ribes nero e limone wow e si sentivano tutte queste note fiorite tutte 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 le note di cuore sono giglio mughetto gelsomino del marocco garofano caprifoglio tuberosa ilanghi langa iris rosa rizoma di iris cioè qui è veramente l'apoteosi un portento le note di base sono muschio di quercia incensio muschio cuoio sandalo betiver legno di cedro paciuli e ambra mamma mia chi più ne ha più ne metta si dice c'è veramente qui c'è dentro di tutto di tutto questo è un flanker una rivisitazione del profumo anais anais l'original allora se io lo spruzzo rivivo anais anais oh mamma mamma mia quanto è buono giglio a profusione questo che è anais anais l'original ha molte meno note perché ed è stato lanciato nel 2014 quindi è giovincello giovincello le note di testa sono giacinto e caprifoglio pam finito le note di cuore sono giglio mughetto gelsomino ilang ilang e rosa e le note di base sono muschio vegetale muschio vetiver sandalo e ribes nero molte 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 meno allora è ancora intenso è ancora una meraviglia è un fiorito un fiorito aperto leggero non ha più l'intensità che aveva l'anaise anais di tanti 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 anni fa questo è il profumo dell'amore sbocciato che ho iniziato ad usare verso i 17 18 anni quindi appena il mio amore era iniziato ricordo benissimo che Paolo me ne regalò un flacone per il mio diciottesimo compleanno quel giorno mi portò al San Martino allora ero una pulsella leggiadra e ginnica il San Martino è una montagna molto cara a noi lecchesi che ha diciamo una breve camminata di un'oretta oretta e mezza ma è così è una montagna che è dietro la mia casa è meta di tantissimi lecchesi proprio perché è facilmente raggiungibile a piedi da quasi tutte le località di Lecco e si arriva diciamo su una terrazza che ha nelle giornate limpide e belle un panorama mozzafiato si vede tutta l'ecco e nelle giornate dove il cielo è limpido e dove l'aria è terza si vede anche Milano è un panorama stupendo ci sono le montagne che ci circondano si vede il lago si vede tutta la Brianza se non ci siete mai stati e siete nelle vicinanze e volete fare un girettino tenete presente proprio la chiesetta del San Martino è davvero una passeggiata che possono fare tutti l'ho fatta anche io qualche anno fa anche se a fatica perché tira abbastanza ma vi regala uno spettacolo meraviglioso e proprio lì mi regalò la mia boccetta di profumo Anais Anais ricordo bene che in quel momento fui invasa da una felicità meravigliosa ero fortunata ero amata invincibile ed ero giovane mi sentivo tutto il potere della giovinezza in mano in quel momento potevo fare tutto che bello potersi sentire così sentirsi liberi sentirsi belli sentirsi amati sentirsi invincibili poi quando si cresce si sa che non è sempre così ma a quell'età è proprio bello è proprio bello perché si ha la forza di affrontare le difficoltà di affrontare la vita di affrontare le decisioni lo portai questo profumo per molti 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 anni ancora penso fino a quando ho partorito Mattia poi in gravidanza appunto i profumi mi davano fastidio ma questo è proprio diciamo il profumo che ha segnato e che ha coronato forse la mia storia d'amore perché è il profumo che io ho indossato il giorno delle mie nozze lo porto nel cuore con davvero tanta emozione e mi sto emozionando anche adesso perché i profumi regalano emozioni regalano ricordi hanno la capacità di farci tornare indietro nel tempo proprio grazie al profumo che non è detto che quello che ci sia contenuto qui sia veramente quello che noi sentivamo ma c'è questa trasposizione di emozioni di note di ricordi che fanno sì che un profumo diventi davvero un timbro che ci rimane sul cuore per ricordare determinati momenti ecco questo profumo che non è più quello di allora mi piace tantissimo e l'ho comprato da poco perché appunto non ritrovavo più quello che invece avevo comprato ma è il profumo di me è Paolo insomma io qua dentro ci vedo il noi il noi che è arrivato fino adesso dopo 27 anni di matrimonio e forse questo profumo chissà ha un segreto ebbene mi scuso per essermi emozionata ma davvero ragazzi cioè ricordare questi periodi così belli della mia gioventù e della mia adolescenza mi fa sempre sentire una donna fortunata perché ho avuto tanto dalla vita ho davvero avuto tanto non per merito non per merito mio e e questo insomma tutti questi profumi sono il profumo del tempo che è passato ma quando voglio ritornare una diciottenne una ventenne una venticinquenne basta appunto chiudere gli occhi spruzzarsi due spruzzi di profumo e ritrovarsi dove noi vogliamo e in quel momento che noi vogliamo ricordare la diciottenne invincibile forte con le porte del mondo aperte per la vita che la stava aspettando ecco ho avuto la fortuna di arrivare fino a qua di potervelo raccontare perché sappiamo benissimo che non è così per tutti ma ho anche altri profumi che mi hanno introdotto poi nel mondo del lavoro o nel mondo più adulto se vi fa piacere fatemi sapere che vi racconto anche gli altri tre o quattro profumi mi presto di sicuro non ricordo se c'è anche un quarto bene qui mi avete visto nella mia emozione più profonda perché proprio grazie attraverso i profumi sono ritornata indietro nel tempo negli anni più belli della mia vita io vi ringrazio vi auguro una buona domenica perché pubblicherò questo video domenica e vi auguro un buon inizio di settimana e ci vediamo sicuramente ai prossimi video grazie